5.9 il 20 maggio 2012, 5.9 il 6 aprile 2009. In una casistica dove terremoti forti partono da 6.0 gradi Richter, 5.9 gradi Richter è un terremoto moderato, così tutto sembra normale, invece i terremoti sono in aumento. Oggi è il 29 agosto 2012. Nuovi terremoti nell'autunno 2012 negli Stati Uniti d'America, California, Italia e aria mediterranea. Successivamente le creature extraterrestri torneranno dal pianeta Nibiru, sul pianeta Terra, così tutti saremo come fratelli. Questa sarà una cosa bellissima. Prima che cali il sole, che sono già le 18, comunque è presto, ma è nuvolo, ecco vi faccio una visita turistica alla Torre di Velate, presso la città di Varese, in Italia. Allora, prendo la borsa, questo mettiamo a fianco. E infatti segnalo alle 18, la campana. Questa è la Torre di Velate, una torre medievale di avvistamento, che è stata distrutta nella guerra tra comaschi e milanesi, durante appunto il medioevo, una torre molto bella, si conserva ancora oggi nel 2012, sarebbe sinceramente non solo da ristrutturare, perché è stata ristrutturata negli anni scorsi, ma da risistemare come era originariamente. Vi faccio vedere un antico albero di castagno che c'è a fianco alla torre. Questo è un antico albero di castagno, qua siamo in piena campagna. Questo è un antico albero, ecco, pieno di foglie, di fiori, tutto quanto, perché ha anche delle piante tutte attaccate a sé. E la nostra bella Torre di Velate. Arrivederci alla prossima. Oggi 29 agosto 2012, la giornata ormai nuvolo, ma sempre una bella giornata.